10 giorni di programmazione, 10 spettacoli, 4 di teatro musicale, 5 di teatro strumentale, una coreografia, 7 sedi, teatro Costanzi, teatro Argentina, uditorium a Parco della Musica, teatro India, teatro nazionale, teatro di Villa Torlonia, Villa Medici. Questa incite la prima edizione del Festival Internazionale di Teatro Musicale Contemporaneo presentato dal Teatro dell'Opera di Roma sotto la direzione artistica di Giorgio Battistelli che si svolgerà a Roma dal 27 maggio al 9 giugno 2016. Buongiorno a tutti, benvenuti, ringrazio di essere presenti questa conferenza stampa di questo nuovo festival, un nuovo festival non del Teatro dell'Opera di Roma, un nuovo festival della città. Non è un caso che la rappresentazione si faccia qui in Campidoglio e il commissario Brom, che deve essere presente per motivi di istruzione, non è qui e la sostituisce, ringraziamo il commissario Brom e la dottoressa Orbi. Con me al tavolo vedete molte persone che normalmente non stanno insieme da questa parte del tavolo a presentare un nuovo festival e questo forse è anche uno dei motivi veramente innovativi. Accanto a me c'è Giorgio Battistelli che ha curato questo festival. Poi abbiamo José Dosalla, amministratore delegato di musica per Roma e il direttore di Calvi del Teatro di Roma dell'Argentina, Michele Dallongaro, presidente e solo intendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, saluto, Muriel Maillet che è la direttrice dell'Accademia di Stancia. Sarivano anche da Ilusi Ribaldi, direttore della doppia veste, d'altro, direttore di Radio 3 e anche presidente del Teatro di Roma. Dicevo, siamo molto felici questa mattina di presentare questo nuovo festival. Buongiorno, vorrei iniziare con un'esprimazione, è viva, è viva, è viva, finalmente anche a Roma abbiamo un festival, è nato un festival internazionale di teatro musicale, di opera moderna, le definizioni sono tante e non a caso abbiamo messo poi all'interno del festival una serie di incontri proprio su questo tema, opera o teatro musicale. E su questo sarà interessante interrogarci e interrogarci anche i nostri ospiti. è viva perché finalmente c'è un festival, ma è viva anche perché è un festival che è riuscito a riunire le istituzioni culturali e musicali più importanti della città. Io personalmente credo che è l'unico modo per oggi per portare avanti dei progetti, non soltanto a Roma, ma in generale è quello di riuscire a far convergere idee, progetti e poterle realizzare in maniera creativa. Sono convinto che non è soltanto una questione di denaro, spesso il denaro è importante, ma sono anche importanti le idee che si propongono e che si possono scambiare. È un festival che mira a recuperare anche un tempo che è passato. Abbiamo perso degli appuntamenti molto importanti, direi più o meno dagli anni 50 a oggi, quindi mezzo secolo abbiamo perso. Abbiamo recuperato quel tipo di esperienza. Mi riferisco a una forma che è quella del teatro musicale da camera, che è una forma che è stata fortemente penalizzata in Italia, e poi quella del teatro contemporaneo, del teatro moderno. E quindi in questa prima edizione abbiamo deciso di proporre anche lavori che non sono stati prodotti in questo anno, in questi ultimi anni. Ci sono lavori che sono stati importanti nel passato e che sono importanti per la storia del teatro musicale contemporaneo e che il pubblico italiano non ha mai visto. E quindi mi sembra un'occasione, una funzione del festival è anche quello di riproporre, di riproporre quelle produzioni, di riproporre quei lavori che appunto fanno parte della nostra storia musicale. Per esempio è il caso di Andrew Gurghers con Schwarz auf Weiss, è un lavoro che certamente ha delle radici fortemente radicate nell'esperienza di Maurizio Kanger. È un vero lavoro di teatro musicale, quando si parla di teatro musicale è inteso proprio come azione musicale, come un action music dove l'azione, la performance del personale diventa anche elemento non soltanto gestuale ma di una vera e propria drammatologia, diventa azione teatrale. Con un ensemble moderno che certamente non ha bisogno di presentazione, stiamo parlando di uno degli ensemble più bravi, più preparati nel panorama europeo e non solo, in particolar modo per la musica contemporanea ma anche per il teatro. Quindi è un lavoro dove in scena sarà l'ensemble moderno che creerà una serie di azioni e ognuna di queste azioni produce dei suoni, quindi produce suono, produce musica e produce un percorso drammaturgico molto preciso. Arnold Goebbels è un compositore che è riuscito a dare delle risposte molto importanti, una via di mezzo tra una... non ha avuto paura di piacere, ecco, di avvicinarsi a un pubblico più vasto, non soltanto al pubblico ristretto nel perimetro della musica pura, della musica contemporanea, ma ha cercato di avvergare anche, di toccare anche altre estetiche più, diciamo, legate anche ad altre esperienze musicali, non voglio usare il termine di contaminazione, ma che ha guardato anche ad altre esperienze, lui viene dal jazz, quindi dal free jazz, quindi è un... e da lì poi ha creato un proprio linguaggio, grazie poi anche all'esperienza e alla collaborazione con l'Anzano Moderna.